La domanda da un milione di dollari in cardiologia rimane come determinare se il cane ha una insufficienza cardiaca con gestizia o no. Perché molte delle raccomandazioni relative ai trattamenti sono basate sulla presenza o assenza di insufficienza cardiaca con gestizia. Se analizziamo una insufficienza cardiaca con gestizia secondaria a patologia sinistra, la prima caratteristica che vediamo è che c'è un aumento pressorio nell'atrio, per cui vedremo una dilatazione dell'atrio sinistro. Inoltre, il ritorno venoso polmonare all'atrio sinistro deve essere aumentato e perciò si avranno segni di congestione venosa polmonare, molto spesso visibile a livello dei vasi craniali all'ombra cardiaca. Se la congestione venosa polmonare è molto grave, i fluidi si diffonderanno nello spazio interstiziale ed avremo, di prima istanza, edema interstiziale. Fortunatamente per il veterinario il cane ha una localizzazione caratteristica in cui si sviluppa l'edema, soprattutto nell'area perilare. Quest'area non è sempre facilmente visibile a causa della sovrapposizione dell'atrio sinistro sulla radiografia laterale e perciò è essenziale avere anche una radiografia dorso-ventrale. Qui si può vedere il parenchima polmonare completamente separato dal profilo atriale sinistro. Successivamente, al coinvolgimento dell'interstizio, l'edema si estende anche agli alveoli, determinando la comparsa di un pattern alveolare. Spesso vediamo i primi segni di ciò nel lobo polmonare caudale destro. Quando l'insufficienza cardiaca destra evolve in insufficienza cardiaca con gestizia destra, o anche solo con insufficienza cardiaca con gestizia destra, valuteremo la dimensione e la direzione della vena caudale cava, come spiegato in precedenza, e la presenza di liquidi liberi nella cavità toracica, versamento pleurico e o di ascite nell'addome. Anche l'epatomegalia è una caratteristica frequente in caso di insufficienza cardiaca con gestizia destra, sebbene la splenomegalia sia sicuramente rara in animali con insufficienza cardiaca con gestizia destra. Allora, la splenomegalia è rara in animali con con gestizia destra.